Dio alla eternità E mio tempo è tempo di preghiera E posso dire che è il tempo più bello della mia vita E diceva uno che stava ammarento E la cosa che mi ha colpito molto questa testimonianza Non soltanto di lui, ma di tante altre persone Che hanno accettato anche nella malattia la volontà di Dio Perché hanno creduto e credevano che la volontà di Dio è malattia Anche la vita eterna per loro Per dire per ognuno di noi, come la Madonna dice La vostra vita è come un fiore Nella Santa scrittura dice Quelli più robusti 80 anni, meno robusti 70 Per dire, la nostra vita si è allungata E stiamo cercando di allungarla sempre di più Ma è sempre quella là 70, 80, 90, 100, 110, 15 qualcuno arrivava E dobbiamo pensare Davvero Che Cosa ci aspetta Che andiamo, moriamo Non so, qualche tempo fa Io ho sentito ridere Ci sono questi che sono pagani E quando muoiono Bruciano il corpo Come si chiama Quando si muoiono Fanno cremazione E poi ha messo il marito La moglie ha messo il marito dentro la vaso E l'ha messo in casa, in camera Poi sono andati là Avevano rubato il marito E noi invece Loro pensano a tutto Al genere A qua Alla Invece c'è l'eternità L'anima Dov'è? Per dire Tante volte pensiamo a tante cose In che modo Come tenerli Più vicini Io tante volte vedo le mamme Che sono attaccate A loro figli Che è morti E loro dimenticano Quattro figli Due a uno Che evitano E vivono la loro sofferenza Per il bambino Che è morto Che non ha bisogno più di loro And I know Some mothers Who lose their child And then All the time They're suffering But let one child Who pass away Who is dead You know And they simply Ignore the fact That there is another Two, three Or maybe four Children Who are still alive That need Moms love as well Per dire La Madonna Ci vuole Dare da capire Non di essere Io tante volte Dico Divento anche io Mama italiana Troppo apprensiva Troppo attaccata Sì Li vogliamo bene Come Da Palermo Quelle zone là Dicono Ogni scarafaggio È bella Ma no Sì La mamma Non so Come la faccia Non mi ha La Maria Sì Quando I became My lover Ma per dire Per me Miei quattro figli Fanno comincio a pensare A uno all'altro Dico Sono più belli Uno più bello Dell'altro Poi non lo so Domenica mattina Prima di andare Per la Santa Messa Li pettino Li lavro Li listiro Li sistemano Per dire Come ogni mamma Ma come ha fatto Ma come ha fatto anche la Madonna Quando hanno detto Che quando Gesù è morto Aveva la Come si chiama Mantello Aveva mantello Hanno detto Hanno detto Che era così bello Questo mantello Che hanno preso Dardi La tunica La tunica Che hanno preso Dardi Hanno detto Giochiamo A chi Per dire la Madonna Non è stata quella Come dicono Bigotta Ma è stata anche quella Che ha curato Suo figlio Suo marito Per noi Nostro paradiso Deve cominciare Nella nostra famiglia Curando Nostri figli Nostri mariti Nostro posto di lavoro Nostra parocchia And as Our Lady Cured about Jesus About Joseph As well We also have to do The same We have to Live our paradise On earth While we are alive When Jesus Passed away He had a tunic And then the soldiers Were Throwing dice In order To find out Who will take Part of the tunic Because it was So beautiful Because Our Lady Was taking care Of what he was Dressing E oggi La Madonna Ci tiene a noi Non soltanto A nostri vestiti Ma anche Alla nostra anima E questa è la cosa La cosa più bella But Our Lady Takes care of us Not only the way We dress But she takes care Of our soul And that is A beautiful thing E ci dice A domenica È il giorno del Signore And she tells us Sunday The Lord Il giorno di preghiera Il giorno di riposo Il giorno di riposo Il giorno dove possiamo Incontrarci Uni con altri Oggi Con modernismo Consumismo Come si dice Usa e getta Come diceva Don Tonino Bello Quando diceva Ormai viviamo Nella civilizzazione Usa e getta Anche noi Le persone Se abbiamo bisogno Li usiamo Se non abbiamo bisogno Li gettiamo Invece La Madonna Ci chiama Che ognuno Di noi È unico Irrepetibile E quando la Madonna Dice Cari figli Siete importanti Nel questo progetto Della salvezza del mondo La Madonna vuole dire Che io Ognuno di noi È importantissimo Per lei Nei suoi occhi E vuole dire Adesso Tocca a voi Pregate Io sono qua Lei dice tante volte Non dimenticate Io sono vostra madre Intercede davanti Per dire Sì Pregate Perché la Madonna Ha detto Con digiuno E la preghiera Anche le verse Possono avvolterci La Madonna vuole Che proprio Ognuno di noi Diventa ancora Più concreto Con la propria vita Come cristiani Non qua Ma ritornando Nelle vostre famiglie Nelle vostre parocchie La Madonna dice Tante volte Voi parlate Dal digiuno Ma non lo fate Cominciate Tante volte Dalla televisione Dal cibo Io mi ricordo Quando ho cominciato L'apparizione Mio papà Ho preso una scatola L'ho bucato Da sopra E è diventato Un portafoglio Dove mettevo Ogni giorno Un po' di soldini Ogni volta Quando riduciavamo Qualcosa Si metteva là E si dava Per missionari Il quattro passato Eravamo poveri Contadini Io mi ricordo In casa nostra Mai non c'erano soldi Immaginate Qua era comunismo Adesso ormai È diventato uguale Come in Italia E altri paesi Ma quando eravamo Piccoli Era diverso Era comunismo Che non so esegue Le banane Primi pellegrini Che venivano A Medjugorje Sanno che caffè Era prezioso Che le banane Erano preziose O quando arrivavano Pellegrini Da Svizzera E portavano Cioccolatini E tante volte Quando cercavano Di andare Io pensavo Che volevano Comprarmi In qualche modo Io dicevo No 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 E loro andavano Andavano a dare A nostri vicini Di casa E poi La Draga Che era Mia amicina Di casa Lei tante volte Diceva La dividiamo Insieme E così Io ero contenta Che aveva Un pezzo Di cioccolato Anch'io Perché mi sembrava Che non lo guadagniamo Perché quel tempo Mi sembrava Se prendevo qualcosa Anche un cioccolatino Che qualcuno può Pensare Che lo prendo Per interesse Che dico Che vedo La Madonna Perché ho bisogno Di un cioccolato Ma adesso Grazie a Dio Siamo diventati Più liberi In tutti i modi But thanks be to God Today we are more free In different ways Che tante